212 nuovi casi di covid in Abruzzo, 6.329 test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività complessivo del 3,3%. Il più piccolo tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 96. La provincia più colpita è quella di Teramo con 68 nuovi casi, seguono il Chietino con 58 casi, l'Aquilano con 48 casi e il Pescarese con 41 casi. Da qualche giorno la curva epidemiologica è stabile, non bisogna scoraggiarsi, ha detto ai nostri microfoni il professor Fazi dell'ospedale di Pescara. Sembra proprio che ci sia una specie di piccolo plateau, ora due giorni non fanno tendenza, bisogna vedere quello che succederà nei prossimi giorni, speriamo bene, ci stiamo fasciando la testa, forse anche giustamente perché la situazione epidemica è diventata decisamente critica, ormai ci troviamo nella terza ondata, probabilmente noi in Abruzzo, anzi nell'area metropolitana di Pescara abbiamo anticipato la terza ondata un po' prima delle altre regioni, altre zone diciamo d'Italia, però non ci dobbiamo scoraggiare, dobbiamo essere tutti quanti pronti a lavorare e collaborare per il bene finale che è quello di cercare di contenere queste infezioni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 1924, del totale odierno sei casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL, 631 sono invece guariti, attualmente in Abruzzo i positivi accertati sono 12.372, 434 in meno rispetto a ieri, diminuiscono i pazienti ricoverati in area medica, sono 10 in meno rispetto a ieri per un totale di 675, in terapia intensiva i letti occupati sono 87 come ieri ma a fronte di 7 nuovi ingressi. Per quanto concerne i vaccini la somministrazione delle dosi AstraZeneca è ancora sospesa, l'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali fa sapere che il rapporto rischi benefici rimane favorevole ma per il verdetto occorrerà aspettare giovedì, intanto al momento dalle autopsie sui corpi di coloro che sono deceduti dopo aver ricevuto la dose non è emersa alcuna prova che dimostri la correlazione tra il vaccino e la morte. È naturale che ci sarà un rallentamento nella vaccinazione, un momento dove invece bisogna veramente correre per vaccinare, ma adesso le cose stanno in questi termini, confido nell'EMA, confido nell'AIFA che ovviamente bisogna vederci chiaro, secondo me il rischio forse ipotetico ci potrebbe stare, considerando questo tipo di vaccino che va a generare degli anticorpi contro antigeni che sono diretti contro l'AC2, l'AC2 è un recettore endoteliale, quindi magari nel momento in cui si producono queste proteine antigeniche magari si va a stimolare l'AC2 in qualche soggetto magari può dare dei problemi, però è pur vero che parliamo di, stamattina sentivo 17-18 casi su 17 milioni di vaccinati in Europa con AstraZeneca, ci sono state delle reazioni diciamo un po' più numerose rispetto a un vaccino convenzionale, perché è un vaccino giovane, perché è stato partorito in otto mesi invece che in 18-24, però come dicevo prima bisogna correre, l'AIFA e l'EMA devono essere celeri e devono darci una risposta.